guaiù se fate questo piatto a natale vi posso assicurare che farete un figurone il salmone alla wellington guaiù seguitemi e che adesso lo faccio a ricreare veramente guaiù buongiorno allora volete un'altra bella idea per natale e lo sapete il leone è sempre sul pezzo oggi andiamo a fare la versione di mare del famoso filetto alla wellington però al posto di farlo con la carne e lo facciamo con il salmone quindi facciamo il salmone alla wellington gli ingredienti fra poco ve li faccio vedere nel video la ricetta è dedicata alla mia amica nunzia barile a suo marito eddi mautone che è un grande cantante mi raccomando andate a vedere musiche straordinarie e alla piccola e bella stella che manda un abbraccio un bacio forte guaiù seguitemi sempre perché il leone non si allora partiamo dai ingredienti salmone fresco formaggio spalmabile fate filadelfia dai spinaci congelati per fare una cosa più presto pecorino e parmigiano uova scalogno burro un po di vino bianco e passa sfoglia già pronta quindi vi faccio fare una ricetta con cose magari che troviamo subito e facciamo in maniera veloce ma vi faccio fare un figurone allora una noce di burro in padella e un po di scalogno tritato fine 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 fate rosolare fate soffriggere bene lo scalogno e poi ci mettete gli spinaci che sono quelli la congelati li ho solamente strizzati e adesso li metto in padella ok voglio sono spinaci in foglio congelati che li trovate subito costa un euro a busta quindi anche una cosa economica volendo sfumate di vino bianco quando gli spinaci hanno già insomma un po soffritto sono un po soffritti e poi ci andiamo a mettere formaggio spalmabile io ho scelto una filadelfia light ok quindi ragazzi veramente va faccia regolare fate sciogliere un po la filadelfia light salate e pepate quanto basta che viene proprio a fino romone mi raccomando assaggiate sempre quello che fate mettete questo mix di parmigiano e romano che io lo adoro proprio lasciate cuocere giusto 3 4 minuti sempre girando ok non vi preoccupate se rimane un pochettino liquido perché tanto poi andrà nel forno e si riduce adesso lasciate un po riposare e frattempo ci occupiamo della pasta sfoglie che è già pronta non devo fare altro io che andarmela a stendere un poco per allargarla un po questo foglio di pasta sfoglia per quei due filetti di salmone per due persone me lo vado soltanto a dividere ok guardate adesso mi divido la pasta sfoglia non tolgo neanche la carta per il momento che così non sporco neanche il salmone questo lo dovete prendere fresco ragazzi questa è la cosa proprio più essenziale ok togliete le spine salate e pepate quanto basta e poi lo andate a mettere proprio al centro di questi due insomma quadrati di pasta sfoglia adesso che cosa faccio io mi vado a sbattere due uova e adesso anzi no due uova è un uovo due uova sono troppo e adesso mi vado a fare il contorno di questa pasta sfoglia solamente l'esterno adesso sul salmone ci vado ad adagiare questa cremina di spinaci e formaggio vedete che deve essere più o meno uguale come la grandezza del salmone così poi dopo ve lo ritrovate bene adesso che cosa fate la prima piega e va sopra poi richiudete l'altra ancora sopra fate attenzione a non romperla vedete con molta cura adesso io mi spalmo un altro poco di questo uovo alle due estremità perché adesso io vado a chiudere tipo come se fosse un portafoglio dai ok chiudo anche queste due estremità vedete con calma e adesso con calma lo andate a girare dall'altra parte e abbiamo finito vaiù adesso che facciamo con un coltellino mi vado a fare delle incisioni fate come volete voi potete fare pure il disegnino del pesce che è molto più bello per natale adesso ho fatto una cosa semplice vedete ho fatto i triangolini però noi triangolini quadratini obliqui adesso con la restante parte dell'uovo delle uova mi vado a spennellare sopra io poi ci metto giusto un poco di sale doppio ragazzi ma se volete potete anche non metterci a me mi piace va nel forno 200 gradi per 25 minuti voglio ed ecco il risultato salmone perfetto e andiamo a vedere com'è venuto dai voglio facciare crea voglio guardate ca allora ma se non mi dite che questo veramente non vi piace come piatto mi raccomando condividetelo questo piatto qui ci mettete 35 minuti tra cottura e preparazione non ci vuoi niente a pasta sfoglia già comprata o spinaci che li la congelati l'unica cosa che vi dico il salmone fresco cara anunzia caro eddi e cara stella piccolina stella bellissima davvero vi ho dedicato questo piatto con tutto il cuore vi auguro buone feste mi raccomando dato un abbraccio grande a tutta norimberga ma vieni a cavi che l'abbiamo tagliato innanzitutto una tecca un micro can si sente il croc guardate ca cottura perfetta non è secco e non è crudo è perfetto poi qua si vede tutta la crema fatta con il formaggio spinaci voglio qua sopra ci vuole un bel bicchiere di vino bianco allora voglio il leone è sempre sul pezzo vi auguro buone feste se replicate questo piatto mi raccomando venite nel mio gruppo le ricette di chef in famiglia e scrivetemi nel mio nella mia pagina ufficiale mi raccomando condividete questa ricetta vi mando un abbraccio forte ciao agli alla prossima